Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, iniziamo tornando a parlare della vicenda, la ricorderete, dello scorso 25 gennaio quando un 41enne sparò un colpo di pistola all'indirizzo del cognato di 44 anni, peraltro adesso l'uomo è fuori pericolo e il 41enne, un vigilante su una guardia giurata, si trova agli arresti domiciliari, questa appunto l'ultima decisione del GIP nei suoi confronti. Il servizio. È stato scarcerato il 41enne che la sera del 25 gennaio aveva sparato contro al cognato cognato in un appartamento di via, benvenuti a pochi passi dal centro storico Aretino, l'uomo ex guardia giurata attualmente si trova agli arresti domiciliari. La reiterazione, ovviamente questa ci sentiamo di escluda, inquinamento delle prove sappiamo come sono andati, pericolo di fuga, men che meno, perciò la misura attualmente in essere, credo che garantisca le esigenze di indagine. Il GIP Giulia Soldini adesso ha accolto la nuova richiesta da parte delle gali dell'ex vigilante Francesco Colonna concedendogli i domiciliari a casa di un fratello. Inizialmente la richiesta era stata negata, l'abitazione di via benvenuti non era stata infatti ritenuta idonea dal giudice per applicare la misura meno afflittiva. Lì abita anche la madre che naturalmente deve continuare ad avere rapporti anche con la sorella che poi è stata l'origine della discussione dalla quale poi è seguito il fatto. Il 41enne si trovava nel carcere a retino di San Benedetto dopo che al culmine di una violenta lite in famiglia, pare per l'accudimento dell'anziana madre, aveva esploso un colpo di pistola detenuta regolarmente per l'attività di guardia giurata contro il marito della sorella Luca Valli. Il cognato, dopo un delicato intervento chirurgico e giorni di terapia intensiva, adesso è finalmente fuori pericolo. Ha sempre chiesto di come stava, si è reso conto ovviamente, purtroppo sono quegli attimi in cui non potesse tornare indietro, non agirebbe in tutto l'altro modo. L'accusa per il 41enne resta quella di tentato omicidio. Speriamo che possa essere dirubicato in qualcosa di meno grave. Si è schiantato contro il passaggio a livello a Giovi alle porte di Arezzo. L'episodio è accaduto questa mattina intorno alle 9.30 circa sul posto, oltre che i mezzi del 118, anche i tecnici della LFI che hanno dovuto riparare i macchinari danneggiati e ovviamente il traffico ferroviario è rimasto bloccato con ritardi anche sulla linea ferroviaria. L'uomo è stato soccorso, per fortuna non è rimasto ferito in maniera grave. Fermato con un chilo e mezzo di hashish, mentre appunto passeggiava in centro con la droga all'interno di una normalissima busta della spesa, è stato fermato e arrestato. È stato sorpreso a piedi in centro ad Arezzo con un chilo e mezzo di hashish, diviso in panetti con su un adesivo con una copia del marchio Louis Vuitton, nascosti dentro ad una busta di plastica della spesa. In manetta è così finito un 25enne e a retino. A fermarlo una pattuglia dei carabinieri che hanno notato l'atteggiamento nervoso del ragazzo ed hanno deciso di controllarlo, così hanno scoperto che all'interno della busta c'era lo stupefacente suddiviso in 15 panetti. Quindi è scattato anche il controllo nell'abitazione che si trova sempre in città. Qui sono stati trovati e sequestrati materiali utilizzati per il confezionamento dell'hashish. Secondo l'arma la droga sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa 30.000 euro. Il 25enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica che ha disposto il processo per direttissima ed intanto proseguono anche le indagini dei carabinieri per cercare di capire dove era destinato quello stupefacente e quali potevano essere i canali di distribuzione. Adesso apriamo una lunga pagina dedicata al giorno del ricordo. Oggi 10 febbraio si ricordano appunto le vittime delle foibe. Iniziamo subito con questo primo servizio e con la cerimonia che è proprio intitolata ai martiri delle foibe largo, martiri delle foibe ad Arezzo appunto dove c'è stata la deposizione di una corona di alloro. Una giornata per commemorare le vittime delle foibe e dell'esodo di fiume Agni, Striani e Dalmati. Anche Arezzo ha celebrato così il giorno del ricordo con la deposizione di una corona d'alloro in largo martiri delle foibe. Questo per molti decenni è stato un martirio dimenticato. Poi per fortuna la cultura e la politica e l'attenzione e la memoria hanno riportato alla luce anche questo martirio, questa pagina drammatica della storia d'Italia e d'Europa. Moltissimi italiani foibati perché italiani, martirizzati, violentati, assassinati perché volevano essere ciò che erano italiani. Quindi quel pezzo d'Italia ha vissuto una storia molto drammatica, ripeto, per moltissimi anni dimenticata. Oggi è tornata la luce, è storia patria, è storia di italiani, è storia della nostra terra e quindi non possiamo che essere orgogliosi da una parte perché ha vinto la storia e dall'altra parte perché la memoria non sia mai sospesa ma diventi sempre un elemento di coesione sociale e anche di amore di patria, di riconoscimento della nostra italianità. Il giorno del ricordo è stato ufficialmente istituito con una legge del 2004 promulgata dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azzaglio Ciampi. La data scelta per la ricorrenza è quella del 10 febbraio perché in questo stesso giorno, nel 1947, fu firmato il Trattato di Parigi che stanciva la pace tra Italia e potenze alleate, forma le fine delle ostilità della Seconda Guerra Mondiale. E una seconda cerimonia si è invece tenuta presso il Palazzo della Prefettura. Sentiamo meglio che cosa è accaduto in questo servizio di Chiara Sadotti. In memoria di Guerrino Fabianelli, figlio di Celestino, classe 1906, nativo di Castiglione Fiorentino, milite del secondo reggimento, milizia difesa territoriale di Pola, venne catturato dai partigiani di Tito il primo maggio del 1945 e da allora non si ebbero più sue notizie. Dicevano la medaglia di nipoti Chiara e Monica. In occasione del giorno del ricordo, istituito per ricordare alle vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano Dalmate e delle vicende del confine orientale, il prefetto di Arezzo e il sindaco di Castiglione Fiorentino hanno consegnato alle nipoti di Guerrino Fabianelli la medaglia conferita dal Presidente della Repubblica in riconoscimento del sacrificio offerto alla patria dai cittadini italiani. È doveroso riconoscere anche agli eredi di coloro che hanno sacrificato la loro vita in quella circostanza, quindi sia agli esuli estriani dalmati ma anche coloro che hanno combattuto poi sul fronte orientale e che hanno perso la vita per difendere il popolo italiano. Noi abbiamo perso nostra mamma da poco e abbiamo finito la memoria storica, quindi questo è importante. Perché in famiglia siamo stati sempre molto legati poi alla storia dei vari componenti. È bello avere un pezzetto di storia della famiglia e avere un riconoscimento per una persona che comunque la sua vita l'ha data per la patria alla fine. Parliamo ancora di foibe perché un'altra cerimonia si è tenuta nel borgo di Rondine in memoria di Giovanni Palatucci, ultimo questore di fiume riconosciuto come giusto tra le nazioni morto nel campo di sterminio di Dachau il 10 febbraio 1945. La cerimonia si è svolta all'interno dell'arena Janin, il luogo inaugurato da Liliana Segre nel 2020 e simbolo appunto della memoria all'interno della cittadella della pace di Arezzo dove oggi cresce l'ulivo donato proprio dalla questura di Arezzo in memoria appunto dell'ultimo questore di fiume a cui lo Stato italiano nel 1995 ha attribuito la medaglia d'oro al merito civile appunto riconosciuto giusto tra le nazioni. Continuiamo il nostro racconto delle cerimonie a retine per il giorno del ricordo, stavolta ci spostiamo a Cortona. Allora, ho detto innanzitutto chi erano le persone che abitavano, la popolazione, che viene semplicemente raccontata come italiani, sloveni e croati. In realtà erano persone che facevano gli stessi mestieri, lavoravano nei campi o nelle manifatture tabacchi eccetera, che spesso si sposavano tra di loro, non c'erano motivi particolari e l'unica differenza è che in casa uno parlava soprattutto croato e l'altro parlava soprattutto italiano. Guido Giacometti, rappresentante toscano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia oggi a Cortona per ricordare le vittime delle foibe nel giorno del ricordo. Una conferenza pubblica cura appunto dell'Associazione e a cui ha partecipato anche l'Istituto Scolastico Superiore Luca Signorelli. Ho cercato di spiegare cosa fossero l'impatto delle foibe che andava al di là del solo perdere il familiare, il figlio, ma la sparizione, non poter elaborare il lutto quando si fa un funerale o si ha una tomba. E poi due parole anche sull'Esodo. La gente che ha lasciato tutto, un benessere, una storia, una tradizione, una casa. Mio nonno aveva costruito metà della casa che è dovuta andare via perché è oppresso da questo regime comunista andando verso l'ignoto, l'ignoto che si è rivelato duro per molto tempo. Gente che si è famiglie separati, il figlio che è andato in Australia, i genitori. La situazione è stata veramente pesante. Sì, è una giornata molto importante. Peraltro la legge del 2004 ha istituito questo giorno del ricordo e per questo ringrazio l'amministrazione comunale e la persona evidentemente di Francesca Testi per aver organizzato questa bellissima giornata con la presenza degli studenti, dei docenti per non dimenticare. Per troppo tempo le foibe sono rimaste sconosciute a molti, oggi se ne sta parlando e questo è un significato importante che ci deve far riflettere in un momento storico anche particolare. Sì, ringrazio l'assessore a testi per l'organizzazione di questa giornata, giornata come questa al pari della giornata alla memoria sono importantissime per tramandare, far conoscere ai nostri ragazzi quello che l'uomo è stato in grado di fare, per passare il testimone a loro e far sì che queste atrocità non accadano più. Purtroppo ancora oggi in Europa vediamo atrocità simili perché viviamo in un periodo di guerra e quindi credo che queste occasioni siano molto utili e indispensabili per poter riuscire a creare una società migliore. E adesso invece parliamo del terremoto che ha davvero messo in ginocchio le popolazioni di Turchia e Siria. Sono 60 gli italiani che stanno scavando anche a mani nude, quindi vigili del fuoco, medici, infermieri che stanno salvando vite e recuperando purtroppo in alcuni casi persone senza vita. E allora per aiutare in un altro modo, diciamo così, quindi non con una presenza fisica è così importante, ma essendo comunque vicini a queste popolazioni adesso è possibile farlo perché la regione toscana ha dato il via ad una raccolta fondi. Mentre i nostri vigili del fuoco e operatori del 118 continuano a scavare tra le macerie della Turchia due le vite salvate dalle mani italiane, è partita dalla Toscana una raccolta fondi. Ad annunciarla è stato il presidente Eugenio Gianni per venire incontro, ha detto a tutti i toscani e alle toscane che in queste ore stanno manifestando la volontà di dare una mano per alleviare i gravissimi disagi delle persone colpite dal sisma, la regione mette a disposizione un codice IBAN per raccogliere le donazioni. Un altro modo per stare vicino a quelle popolazioni dopo gli interventi di primo soccorso per i quali ci siamo già mobilitati fornendo assistenza sanitaria e di protezione civile. Interventi preziosi per i quali ancora una volta, dice Gianni, voglio ringraziare tutti gli operatori in questo momento sul campo. Purtroppo le necessità di chi sta vivendo in queste ore nelle città e nei paesi distrutti al freddo e in mezzo alla neve sono moltissime e lo saranno ancora a lungo tempo. Sono sicuro, conclude Gianni, che la Toscana saprà dimostrare come sempre la sua capacità di rispondere con entusiasmo a questa richiesta di aiuto. Torniamo sul caso delle bollette estra perché il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli dopo le sollecitazioni ricevute da Feder Consumatori Arezzo e l'annuncio peraltro da parte dell'Associazione di presentare un esposto ha chiesto un'assemblea straordinaria di Coingas. È necessario, dice Ghinelli, verificare quanto esposto dall'Associazione e trovare soluzioni per dare supporto a cittadini e famiglie. Un'assemblea straordinaria di Coingas, la presenza proprio del Presidente e dell'amministratore delegato di Estra, Alessandro Piazzi, è quanto mai necessaria ed è stata richiesta proprio oggi dal sindaco con una lettera ufficiale. è un ritenuto, dice, necessario chiedere la convocazione dell'Assemblea per verificare la correttezza delle affermazioni e delle richieste fatte dall'Associazione e per valutare la fattibilità circa le soluzioni che possono essere formulate per dare supporto ai cittadini e alle famiglie colpite da questi aumenti. Una nuova area di giochi inclusivi è stata inaugurata recentemente in Valdarno, vediamo dove, nel servizio di Chiara Sadotti. Un'area accessibile, sicura ed ecosostenibile sono terminati i lavori per la realizzazione dell'area giochi inclusiva all'interno del Parco Fluviale di Levane. Questo è un progetto che è nato nell'ambito appunto delle manutenzioni, in quanto c'era da riprogettare e di studiare quest'area, questo giardino dove erano presenti giochi fatiscenti, strutture diciamo non più consone. Per cui nell'ambito, nello scegliere di riprogettare questo giardino abbiamo pensato di sperimentare quello che vengono chiamati giochi inclusivi e quindi un giardino inclusivo adatto sia a bambini con disabilità che non. Questo per favorire chiaramente l'inclusione sia dei bambini che delle famiglie, di favorire appunto la socialità in totale sicurezza. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo regionale di oltre 11.000 euro ottenuto mediante la partecipazione al bando Rigenerazione Toscana. Con il quale abbiamo comprato i giochi, giochi che sono completamente ecocompatibili in quanto sono in materiale riciclato, sono a praticamente manutenzione zero per o meno per molti anni e quindi è un giardino non soltanto inclusivo ma anche ecocompatibile. L'intervento si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione dell'aria che costegge il torrente Ambra ed accoglie il parco fluviale. La completeremo anche con un'area fitness, verranno messi degli attrezzi per l'attività fisica anche degli adulti, dei più grandi, però ci sembrava importante partire da questo spazio inclusivo. Ci apprestiamo a vivere un nuovo fine settimana, in particolar modo domenica prossima in cui i carnevali in tutto il territorio aretino torneranno a colorare le strade, i borghi appunto della provincia di Arezzo per Castiglione Fibocchi e l'originale carnevale dei figli di Bocco, come sappiamo di ispirazione veneziana, sarà però l'ultima uscita. Dunque Castiglione Fibocchi in questo caso festeggia la sua 26esima edizione, è dunque pronto a riportare per le vie del borgo le bellissime maschere Barocche. Domenica 12 febbraio il tradizionale corteo reale con oltre 200 figuranti farà appunto bella mostra di sé nel borgo di Castiglione Fibocchi, sarà anche l'ultimo giorno per poter partecipare al concorso fotografico indetto proprio dal carnevale dei figli di Bocco in collaborazione con il fotoclub La Chimera, ci sono tutte le indicazioni per poter partecipare proprio nel sito del carnevale stesso. E allora adesso invece parliamo di sport, in particolar modo di basket, archiviata con soddisfazione la prestazione vincente contro il Siena Costone, l'Amen Scuola Basket Arezzo fa il suo ritorno al Palasport Estra ospitando domani alle 19 la Don Bosco Livorno. La formazione labronica è composta da giovanissimi atleti del Vivaio tra cui spicca Matteo Paoli che non solo è il capo cannoniere del campionato con 21 punti realizzati a partita ma è anche l'autore della migliore prestazione individuale con i 43 punti realizzati contro l'Alto Pascio. Nel girone di ritorno la Toscana Food Don Bosco dopo la netta vittoria contro la Synergy Valdarno ha perso soltanto contro l'Agliana e contro il Prato, terza forza appunto di questo girone. Domani la partita come dicevamo è alle 19 al Palasport Estra e quindi sarà possibile seguirla appunto da parte di tutti i tifosi aretini poi ovviamente come sempre andrà in onda nella nostra programmazione il martedì giorno dedicato appunto al basket. È tutto per questa edizione, grazie per la cortesia e attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.